E c'è stato qualcuno ma non ha ancora fatto questa cassa Queste due Eccolo là sopra il camion Tutte e due sono là E' veroncino Non è uscito addirittura L'altro è sempre al camion Ok mi sa che se ne vanno tutte e due Trovate altri scudi No no Uno sta facendo l'albero Uno la roccia Pronto? Oh no Madonna che cazzo c'è in quello Volevo piazzare una trappola in quella casa Non esiste più la casa Ovviamente sono sopra la montagna Non provvigionamento qua E' anche dei tipi sopra l'arco Sopra la torre Ah ok Sono sceso Dietro l'albero Giù a 87 Dietro l'albero con lo magretti Mazzà Come cazzo è possibile? Non lo vedo Eh però è lì Quella madonna Mi ha fatto un critico Che Stai buono che ci sono altri tipi Sopra l'albero con lo magretti Sopra l'albero con lo magretti Sopra l'albero con lo magretti No l'hai già fatto da un'ora Dov'è? Ma io l'ho atterrato e basta Da dove hai preso tutto il loot Madonna Mi sembra arressare quello lì giù E' sotto Sotto è sotto è sotto Io pensavo fosse sopra Vedevo tutto col loot C'è un altro sotto Cazzo ha fatto non vederlo C'è un cazzo di alber C'è una trappola Mamma c'è una trappola sopra di te E' mia Perché pensi che sia entrato Appare santo Adesso non più Diciannove seconde Salute Salute Diciannove seconde uno contro uno contro uno non avrebbe vero? non avrebbe? no non l'ho preso il volo sono riuscito a prendere lo scar lo sparo lo sentivo da sotto ma l'altro è super perché ha ammazzato quello sopra eccolo non hai capito la direzione albero è bravo eccolo non è che cazzo è andato è andato verso sinistra è un coglione però ne ho fatti un po' grazie per aver seguito il video se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao